La veglia del transito di San Pasquale apre i festeggiamenti promossi in onore del Santo e di Maria Santissima di Costantinopoli a Nocera Superiore. L'omonima parrocchia si è attivata per allestire un cartellone di grande impatto. Tanti gli appuntamenti ludici, ma soprattutto intensi e molteplici gli eventi religiosi. È innanzitutto una celebrazione di fede. Infatti iniziamo con la veglia del transito di San Pasquale proprio perché durante questa veglia raccontiamo la vita del Santo e le opere che ha fatto per essere testimone di fede. E quindi attraverso tutto il programma che c'è, anche la parte più ludica, quello che vogliamo fare è trasmettere il nostro essere chiesa. Alla festa è abbinato il concorso dei Madonnari, un'iniziativa che ormai è di rilevanza internazionale. Sì, tanti stranieri vengono e uno degli obiettivi è anche portare occasione di sviluppo in città a partire anche dalla chiesa che deve essere incisiva sul territorio. È quindi un obiettivo che stiamo cercando di raggiungere e quest'anno abbiamo raggiunto bei risultati. Quali saranno gli appuntamenti principali legati alla festa e al concorso? Innanzitutto il concorso in sé che è venerdì, che arriveranno i Madonnari a dipingere, sabato per le visite e domenica la processione, il passaggio solene della processione sul tappeto dei quadri. E poi c'è un momento interessante lunedì dove daremo voce anche a delle iniziative importanti sul territorio che hanno poca voce, come per esempio l'esperienza dell'acqua del comune di Roccapiemonto, la scuola medica che ha vinto la Biennale di Venezia e Leone d'Argento. E poi martedì il concerto che è abbinato alla premiazione dei Madonnari. Con Pupo, ma non solo Pupo in questi giorni? Certamente, per la parte di spettacolo ci saranno i comici di Made in Sud che sono tanto famosi e quindi allieteranno anche lo stare insieme di queste sere. Grazie a tutti.